L'Open Day al Nautico, come sta andando? Sta andando bene, in linea con le nostre aspettative, perché noi stiamo cercando di far comprendere alla cittadinanza l'importanza e l'unicità dell'offerta formativa del nostro istituto. Qual è questa offerta unica? Unica perché sul versante ionico della Calabria, mi consente di dire, per esperienza diretta, anche in tutta la Calabria, è la dotazione strutturale del nostro istituto, la dotazione strumentale e l'organizzazione didattica che c'è al proprio interno fa del Nautico di Crotone l'istituto di punta della Calabria, riconosciuto sia dal MIUR che dall'ufficio scolastico regionale. Noi abbiamo attivi tre indirizzi, l'indirizzo capitani, l'indirizzo macchinisti che fanno l'indirizzo conduzione del mezzo, l'indirizzo conduzione del mezzo aereo, il vecchio aeronautico, e l'indirizzo meccanico-meccatronico, rivolti non solo all'inserimento professionale nel mondo del trasporto marittimo e aereo, ma anche all'inserimento a terra all'interno delle strutture logistiche. C'è futuro per questi ragazzi? C'è futuro per questi ragazzi, basta volerlo. L'unica cosa che noi chiediamo ai ragazzi è un impegno serio nello studio e la profonda conoscenza della lingua inglese, poiché senza l'inglese in campo e dei trasporti e comunque del lavoro internazionale non si va da nessuna parte. Il know-how che c'è anche negli attrezzi, negli strumenti, attira? Attira molto, perché ormai tutto è basato sulla simulazione, aerea e navale, per cui i ragazzi che oggi vivono connessi alla rete trovano una sorta di continuità tra quello che fanno a casa nel tempo libero e quello che invece qui usano per familiarizzare con la dotazione e le attrezzature che poi useranno a bordo. Del resto risulta molto più conveniente per le compagnie di navigazione marittima e per le compagnie aeree formare il personale utilizzando situazioni di simulazione piuttosto che simulazioni reali. Un'ultima domanda, più ragazzi o ragazze? Beh, è inutile dirlo, sono più ragazzi, ma il numero delle ragazze sta crescendo e se mi consente l'aspetto peculiare è che le ragazze sono molto più motivati dei ragazzi e noi abbiamo delle ragazze che navigano, che hanno raggiunto il grado di secondo ufficiale, addirittura una ragazza che è direttore di macchina con la costa, quindi hanno dei lavori di responsabilità e che magari nell'immaginario collettivo erano riservati solo a uomini e che invece sono aperti, apertissimi anzi, alle ragazze. Grazie. Grazie. Grazie.